Se non mangia la mucca non può essere munta, è già un cult la frase di Salvatore Buzzi, pilastro dell'inchiesta mafia capitale che per accaparrarsi gli appalti migliori distribuiva a politici e pubblici ufficiali decine di migliaia di euro. Ci mangiamo Roma, diceva ancora il re delle cooperative, ma anche le parole e soprattutto i gesti di Luca Odevenne rendono l'idea della spregiudicatezza con cui il mondo di mezzo gestiva il suo business. L'Italia è l'undicesimo posto al mondo per presenza di immigrati, 5 milioni di regolari che risiedono nel nostro paese producono l'8% del PIL. Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto le regioni che ne ospitano di più, quasi il 60%. 400 mila sono invece gli stranieri finiti, vittime del caporalato l'anno scorso, i dati del rapporto curato da Caritas e Fondazione Migrantes. Denunciato per percosse e aggravate un minorenne di Ragusa, aveva presa a calcio e pugni la fidanzata a 15enne che gli aveva rivelato di essere incinta. È soltanto l'ultimo vergognoso anello di una interminabile catena di violenza ai danni delle donne di ogni età, razza e nazionalità. I dati diffusi oggi dall'Istat dicono che rispetto all'anno scorso le denunce delle donne maltrattate sono quasi raddoppiate, ma è aumentata anche la gravità delle violenze. Il disagio, o meglio la rabbia dei siciliani alle prese con la Palermo-Catania, autostrada antica e disastrata, che dopo il crollo di un viadotto e la conseguente chiusura di un ponte, costringe i viaggiatori all'utilizzo di strade alternative, dissestate e rattoppate per l'occasione. Solo per bypassare l'ultimo tratto franato, occorrono deviazioni che portano via agli automobilisti oltre un'ora. E si allarga l'indagine americana sugli scandali del calcio mondiale. La luce delle ultime notizie appaiono chiari i motivi dello sfogo di Giovanni Trapattoni durante le qualificazioni per i mondiali sudafricani del 2010, quando la sua Irlanda venne eliminata. Il presidente della Federcalcio irlandese ha confessato di aver ricevuto dalla FIFA 5 milioni per non portare in tribunale il caso del fallo di mano ignorato dall'arbitro. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, il secondo atto dell'inchiesta mafia capitale che ha portato a 44 arresti e a 21 indagati si arricchisce di nuove intercettazioni del ROS dei Carabinieri, dove si raccontano gli affari sporchi che sono stati pianificati a tavolino. Il sistema corruttivo che faceva capo a Carminati e a Buzzi era talmente diffuso, abbiamo visto, che coinvolgeva politici locali e amministratori e funzionari sia di destra che di sinistra. Al centro c'è il business dei migranti che chiama nuovamente in causa Luca Odevenne, ex capo di gabinetto della Giunta Veltroni, ha prodato poi al tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Però l'ultima frase, simbolo di questo scandalo, arriva da Salvatore Buzzi. La mucca deve mangiare per essere munta. E cominciamo proprio da qui, da questa intercettazione. Senti, te lo danno mio Dio, non lo devi fare però. Che te lo fai? E' una ragazza. Oh ma, scusa, ma lo sai la metafora? La mucca deve mangiare. Oh, questa metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice non mi rompe il... perché se questa è la metafora lui già non si ha fatto, quindi mi rompe il... Ma fa... Fagliare l'enco della mangiatoia, diglioso. Per evitare la segnalazione, io ho prezzato 4.500 euro che sta a macchina, e altri da 4.500. Diversiamo domani. Poi, se tu fai la stessa cosa, adesso ti diamo da 4.500 oggi e 4.500 domani. Sono 9.9. E 18. Mi sa che bisognerà fare poi la settimana prossima un'altra parte di versamenti. Io te li lascio a casa, nel bus e già divisi del 4.500, e la settimana la nostra è l'avversario. Dovrebbero essere, secondo me, adesso ne ho fai conti, ma che mi sa che compresi siamo in tavola da 39 euro circa. L'avversario, allora... E' una parte. Non fai, non so più che cazzo fare. D'altra parte, mi dicono che loro non prendono i soldi. E' vero. Perché non abbiamo... Praticamente le pagano l'ultima, le pagano sempre. Per cui, un po', giocano su questo. Un po', perché io non sanno come darmi, io non voglio, non accettano nessuna soluzione. Non c'è nessuna soluzione che ne ho prospettato, perché sono paranoici, perché c'è un lavoro venuto, non voglio, neanche lontanamento, lo sanno in un campo, anche quello che hanno fatto da me e loro. Mi dova un sacco di soldi in alto. Allora, mi dicono, ah, te li hanno colpato. Io non ero una tanto leggera, poi mi toccava tutti i 16, 16 giri, se lo stessi. Il sistema, dunque, aveva visto nell'accoglienza dei migranti, di chi arriva in Italia per necessità, ma anche per sfuggire ad una guerra, un affare su cui arricchirsi. Però c'è anche un altro aspetto dell'immigrazione, ed è quello che ha fotografato la Caritas, che si è concentrata soprattutto sull'immigrato, sullo straniero che si è integrato in Italia, che vive e lavora nel nostro paese. 5 milioni di stranieri residenti in Italia all'inizio del 2014, che con il loro lavoro producono una ricchezza pari a 8 punti percentuali di PIL, 123 miliardi di euro. Il ventiquattresimo rapporto sull'immigrazione, curato da Fondazione Migrantes e Caritas, racconta un'Italia a cui 5 milioni di cittadini stranieri, in maggioranza romeni, albanesi e marocchini, contribuiscono con il loro lavoro. Servizi per le persone, le tante colfe, badanti, ma anche nell'edilizia, nell'agricoltura, nell'industria e nei trasporti. Il nostro rapporto l'abbiamo intitolato Migranti e attori di sviluppo, ma crediamo anche che purtroppo in alcuni casi ci siano delle occasioni mancate di sviluppo, e penso a tutti coloro, ad esempio, che vengono impiegati in agricoltura in Italia, che sono vittime di un grave sfruttamento. Sono 400 mila i lavoratori che lo scorso anno sono finiti vittime del caporalato nei campi, ma proprio il lavoro agricolo può essere un'occasione di emancipazione, tanto che si è scelto di presentare il rapporto all'Expo di Milano sulla nutrizione. Ad esempio, i tanti profughi che stanno arrivando dal Mali sono piccoli coltivatori che nel loro paese hanno perso la terra, sempre più gestita dalle multinazionali, e qui vorrebbero ricominciare. L'Italia è l'undicesimo posto nel mondo per presenza di immigrati, sul podio Stati Uniti, Russia e Germania. Gli sbarchi continui dei profughi sulle nostre coste danno l'impressione della perenne emergenza, ma in realtà nel 2014 i nuovi censiti dal rapporto erano solo 33 mila. La crescita delle comunità straniere è interna, ricongiuggimenti familiari e nascite, 100 mila solo lo scorso anno, famiglie che devono cavarsela con poche risorse. La paga media mensile di un immigrato è 993 euro contro i 1.326 degli italiani. Meno attenzione al discorso della sicurezza, su cui ci sono andati in questi anni il 95% delle risorse, e più attenzione alle relazioni, agli incontri. Anche la riforma della scuola dovrebbe tenere presente questa grande presenza ormai di 800 mila studenti stranieri, oltre la metà dei quali sono nati in Italia. Così pure il mondo del lavoro dovrebbe essere molto attento a fare in modo che non cresca una precarizzazione. La prima regione per presenza di immigrati è la Lombardia, con il 23% seguita da Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Il 57% degli stranieri residenti in Italia è concentrato in queste quattro regioni, e due di loro, la Lombardia e il Veneto, hanno fatto sapere che la misura è colma. Non c'è posto per i 7500 profughi che il Viminale chiede di ospitare, ma i richiedenti asilo sono solo una piccola parte. Secondo il rapporto, la prima causa di richiesta di permesso di soggiorno è il lavoro, seguito dai ricongiungimenti familiari, mentre la protezione umanitaria è al terzo posto. Aumenta l'egoismo, purtroppo. Ma poi questo egoismo, ahimè, trova sponda in alcuni politici, trova sponda in alcune politiche, trova sponda in alcuni movimenti anche che parlano più alla pancia che al cuore. Un popolo, quello dei migranti, di 232 milioni di persone nel mondo, il 3,2% degli abitanti della terra. A Napoli adesso ricevevano mazzette per intervenire sui terminali aziendali allo scopo di agevolare i debitori. E quanto emerge dall'inchiesta sui dipendenti infedeli di Equitalia, per i quali oggi è stata applicata dalla Procura di Napoli la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Secondo gli inquirenti, gli indagati, dieci persone, intervenivano sui fermi amministrativi oppure cancellavano o modificavano le posizioni debitorie. Esisteva anche una sorta di tariffario, dai 200 ai 2.000 euro. E adesso andiamo a vedere com'è la situazione in Sicilia dopo il crollo del viadotto Imera due mesi fa che ha determinato l'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania. Nel servizio vedrete le difficoltà degli automobilisti costretti a percorrere strade alternative, addirittura risalenti ai tempi dei Borboni, se non prima. Attenzione, questa strada non è più larga di due metri e trenta. Non si può andare a più di 20 chilometri all'ora. Ci sono dossi, curve, occorre procedere con molta cautela. Ha anche una forte pendenza del 27%, inoltre è vietata ai mezzi pesanti. Eppure questa strada è diventata un percorso nevralgico da quando è stata aperta al traffico in fretta e furia per risolvere l'emergenza che si è creata con il crollo circa due mesi fa di tre piloni del viadotto Imera sull'autostrada A19 che collega Palermo-Catania, un cedimento che ha spaccato la Sicilia a metà. In realtà questa non è nemmeno una strada, è una trazzera a reggia, come tante altre sentieri in terra abbattuta che risalgono a prima dei Borbone, più o meno al 1500, tratturi che attraversano i campi siciliani. Gli operai hanno dato una sistematina, ci sono passati sopra con le ruspe e li hanno allargati quanto possibile. In quattro giorni è stata fatta, forse ancora di meno. ovviamente il Comune è andato da fare subito, anche se questa qua era una stradella. Emerso così uno spaccato da altri tempi della viabilità siciliana, strade bianche, polverose, piene di buche, che gli automobilisti sono costretti a percorrere. Una viabilità di campagna usata finora solo dai contadini. Questa non è una strada da poter praticare con le macchine, è una stradella per i trattori, non è una strada per le macchine, però la gente è solo costretta a rischiare pure la vita, a rischiare la macchina. Stradine pericolosissime, dove ora passano tutti, auto, camion e autobus, dove si formano code e ingorghi, sia che si vada a Catania, che a Palermo bisogna mettere in bilancio più di un'ora di deviazioni, lunghi sentieri interni, che attraversano i paesini dell'entroterra, dove prima non passava mai nessuno. Ma proviamo a percorrere l'autostrada A19, un tracciato che ha più di 40 anni, è pieno di avvallamenti, dove si aprono continui cantieri. A minacciare il manto stradale c'è la montagna ricca di falde acquifere. Da più di dieci anni ci sono frane continue, tutta la viabilità è messa a dura prova, si chiudono strade vecchie e se ne aprono di nuove. All'inizio dell'anno era crollato il viadotto della strada statale per Agrigento inaugurato una settimana prima, ma c'è stato anche un ponte e un anno fa il viadotto sulla Licata Canicattì, dove si riferirono quattro automobilisti. Per ripristinare l'intera viabilità della zona occorrerebbero 40 milioni di euro. La Palermo-Catania è un'autostrada destinata a soffrire. Solo dieci giorni fa i carabinieri hanno sequestrato un tratto del viadotto, cinque archi, ed hanno aperto un'inchiesta per attentato alla pubblica sicurezza. La strada si sta semplicemente sbriciolando. Gli stessi abitanti della zona avevano scritto allarmati chiedendo verifiche e sopralluoghi. In una relazione del genio civile si parla di serio pericolo di crolli. Il tratto dove la magistratura ha posti sigilli era stato già chiusa la circolazione settimane prima. A rischio ci sono le stesse fondamenta del viadotto che poggiano sull'alvio del fiume Salso. Sarebbero state rose dall'acqua, come accadute ai piloni crollati del viadotto in Mera. Ben diversa invece la viabilità per raggiungere la sede dell'esposizione universale a Milano. Sono visitata oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella come ci ha raccontato nel corso del telegiornale la nostra inviata Raffaella Di Rosa alla quale do subito la parola. Raffaella. Buongiorno Caterina, buongiorno ai telespettatori del TG Cronach. Sì, come dicevi, Sergio Mattarella è stato qui all'esposizione universale per la sua prima visita a Milano all'Expo. Appunto, è andato via circa mezz'ora fa. Prima partiamo dalla fine, dal discorso durato circa 20 minuti ha toccato tanti temi. Innanzitutto il tema della nutrizione, del diritto al cibo per tutti, della lotta, lo spreco alimentare, lo spreco, ha detto Mattarella, è un insulto. E poi sulle migrazioni, ha detto, vanno accettate con saggezza e umanità. E poi un richiamo al contrasto alla corruzione che deve essere, ha detto Sergio Mattarella, severo. È arrivato intorno alle 11 questa mattina una visita breve al Padiglione Italia, al Padiglione Zero e alla Cascina Triuls. E poi Mattarella ha camminato per un breve tratto sul tratto del Decumano e ha incontrato e stretto la mano allo scenografo Dante Ferretti. Qualcuno lo ricorderà, Dante Ferretti è stato autore di una polemica a pochi giorni dall'apertura dell'esposizione universale perché le sue opere sul Decumano non erano pronte per il primo maggio. Adesso le sue opere ci sono, aveva minacciato le vie legali e di ritirare la firma in realtà oggi era qui quindi pace fatta anche se abbiamo notato un po' di ironia nelle sue parole su come sono andate le cose. Allora sentiamola insieme la nostra intervista a Dante Ferretti. Sono andato a dormire questa mattina alle 4 loro hanno finito alle 9 di questa mattina è stata una fatica molto grossa perché abbiamo dovuto lavorare solamente di notte. Forse mi sarebbe piaciuto avere un paio di stazioni in più ma che devo fare? Forse la prossima volta in, non so, nel 2090 io avrò 45 anni così e lo posso ci posso ridisegnare posso ridisegnarlo e vedere se si può aumentare qualcosa. Alla fine questo ritardo non l'è andato giù? No, no. L'ha finito tardi però ci ha rimesso il suo lavoro. Il primo maggio non c'era. No, il primo maggio era impossibile farlo perché per una serie di ragioni che io non conosco avevano dato la gara di appalto troppo tardi. Ma l'ha detto Mattarella? No, Mattarella ha detto che gli piaceva e mi faceva piacere conoscerlo anche perché mi aveva invitato altre volte ma io stavo sempre in Taiwan a fare il film dei Scorsese sono arrivato 15 giorni fa e allora comunque mi ha fatto molto piacere conoscerlo perché lo stimo moltissimo. Il giudizio di Dante Ferretti sull'Expo come? No, mi piace molto l'Expo l'ha fatto proprio molto bene anzi devo dire che mi ha colpito molto proprio tutti i padiglioni le cose insomma è bello e ti coinvolge molto. Grazie grazie a Raffaella Di Rosa e adesso come dicevamo nei nostri titoli aumenta la consapevolezza delle donne nel denunciare le violenze fisiche e sessuali che hanno subito nella loro vita ma i dati Istat che sono stati diffusi oggi parlano anche di un aumento della gravità delle violenze. 6 milioni 788 mila è il numero raccapricciante diffuso dall'Istat che indica quante donne fra i 16 e 70 anni una su tre abbiano subito una forma di violenza fisica o sessuale quest'ultima ha come vittime più donne italiane rispetto alle straniere ma c'è un dato incoraggiante rispetto al passato molte più donne hanno cominciato a considerare la violenza nei loro confronti come un reato una maggiore consapevolezza che si traduce in denunce alle forze dell'ordine quasi raddoppiate si passa dal 6,7% al 12% e sempre più spesso le vittime raccontano gli abusi e decidono di chiedere aiuto ai centri specializzati il telefono rosa gestisce il 1522 dal dicembre del 2012 e da quella data fino al 31 maggio 2015 abbiamo ricevuto più di 121 mila telefonate è importante che le donne sappiano che devono denunciare il 1522 è un primo passo che le donne possono fare per uscire dalla situazione che subiscono ma poi le operatrici sicuramente potranno fornire tutte le informazioni che le consentiranno di denunciare e di porre fine a quello che vivono le vittime si dichiarano più soddisfatte del lavoro delle forze dell'ordine ma sono in aumento le violenze gravi cresce infatti il numero di donne che ha temuto per la propria vita si passa dal 18% al 34% a commettere gli abusi peggiori sono sempre i compagni attuali o quelli precedenti sono donne vittime di violenza domestica da parte dei propri mariti dei propri compagni subiscono soprattutto violenza psicologica e fisica e sono donne con figli figli minori che purtroppo assistono alle violenze subite dalla madre l'11% delle donne che ha subito violenza sessuale a meno di 16 anni cresce la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di abusi nei confronti della madre anche i maschi minorenni sono autori di violenze l'ultimo caso di cronaca a Ragusa dove un ragazzo ha preso a calci a pugni la sua fidanzatina di 15 anni che gli aveva detto di essere incinta negli Stati Uniti si è verificato un clamoroso attacco informatico gli Stati Uniti lamentano un nuovo pesante attacco alle loro infrastrutture informatiche federali stavolta nel mirino degli hacker il sospetto è che si tratti di cinesi ci sono circa 4 milioni di impiegati pubblici americani su un totale di 22 milioni di dipendenti statali si tratta di persone non solo attualmente impiegate ma anche in pensione o ex dipendenti non è chiaro quali siano i settori colpiti teoricamente trapela qualsiasi autorità federale potrebbe essere stata toccata incluse le più sensibili l'ufficio che si occupa del personale federale ha detto di aver saputo di questa intrusione in aprile mentre stava mettendo a punto degli aggiornamenti ai sistemi per innalzare le sue misure di sicurezza informatiche l'ufficio adesso sta cercando di contattare uno per uno i dipendenti che hanno avuto i dati violati ai quali viene proposta un'assicurazione gratuita di un anno e mezzo in caso di furto di identità o uso fraudolento delle carte di credito il furto di dati però si spinge oltre include anche le schede individuali dei dipendenti dove lavorano che tipo di formazione hanno avuto quanto sono stati produttivi le caratteristiche personali la senatrice Susan Collins membro del comitato dei servizi di sicurezza del senato ha detto che l'attacco è partito da Pechino ma il governo cinese poco fa ha respinto all'illazione o quantomeno ha negato il coinvolgimento del governo gli attacchi informatici di solito sono anonimi ha detto il portavoce del ministero degli esteri cinese si sviluppano attraversando i confini e sono davvero molto difficili da tracciare per l'America di Obama che ha sempre preso molto sul serio i temi della guerra informatica quella degli attacchi degli Echera sta diventando una faccenda seria lo scorso novembre il dipartimento di sicurezza interna denunciò un'effrazione su 25.000 nominativi del suo dipartimento a marzo 2014 gli esperti americani respinsero un attacco diretto ai dati dei nominativi di coloro che nello staff governativo possono accedere a informazioni riservate in quel caso fu appurato che l'attacco partiva dalla Cina come pure nel 2006 quando nel mirino degli hacker cinesi finirono i computer dello strategico dipartimento del commercio per non parlare del recente furto con tanto di pubblicazione delle mail alla Sony Pictures in occasione del lancio del film The Interview che sbeffeggiava il dittatore nordcoreano Kim Jong-un il governo di Pyongyang smentì il suo coinvolgimento ma definì l'atto un'azione giusta e l'inchiesta americana sul calcio mondiale si arricchisce di nuovi elementi la FIFA infatti ha ammesso di aver versato alla Federcalcio irlandese una somma di denaro per chiudere la vicenda innescata dal fallo di mano durante la qualificazione dei mondiali nel Sudafrica fu un caso clamoroso che Trapattoni ricorda così è stata la delusione più grande della sua lunga e gloriosa carriera Giovanni Trapattoni ci pensa ancora adesso Parigi novembre 2009 sulla panchina dell'Irlanda il Trap si sta giocando la qualificazione ai mondiali sudafricani del 2010 e avanti per 1-0 nel playoff con la Francia quando il pareggio beffa di Gallas spegne i sogni della nazionale britannica già sconfitta nella gara di andata il gol appare immediatamente irregolare viziato da un evidente fallo di mano del transalpino Henry lo vedono tutti tutti tranne l'arbitro che convalida la rete dello scandalo la svista suscita enormi polemiche gli irlandesi pensano di portare la questione in tribunale e chiedere un risarcimento alla FIFA la potente federcalcio internazionale ben presto però sulla vicenda cala il buio e oggi sappiamo il perché all'epoca dei fatti il governo del calcio mondiale pagò una tangente di 5 milioni di dollari per comprare il silenzio dell'Irlanda la rivelazione arriva da John Delaney quel pagamento fu un ottimo e legittimo affare ammette il numero uno della federazione biancoverde confessando che egli stesso trovò un accordo extra giudiziale con Joseph Blatter a capo della FIFA per 17 anni fino alle dimissioni dei giorni scorsi provocate dallo scandalo corruzione la FIFA replica che si trattò di un prestito concesso per porre fine a qualsiasi pretesa un prestito che sarebbe stato rimborsato se l'Irlanda si fosse qualificata al successivo mondiale del 2014 questo non è avvenuto e il prestito è stato cancellato intanto l'FBI non molla la presa dopo Sudafrica 2010 e Francia 98 nel mirino dell'inchiesta americana sul sistema di tangenti della FIFA finisce anche il mondiale brasiliano dell'estate scorsa gli inquirenti stanno facendo chiarezza sul rapporto tra il numero due della federazione internazionale il segretario generale Jerome Valk e l'ex numero uno del calcio verde oro Riccardo Teixeira ma lo scandalo sembra destinato a crescere ancora Jack Warner ex vicepresidente della FIFA arrestato e poi rilasciato su cauzione teme per la propria vita ma è pronto a collaborare e a fornire prove sul sistema Blatter non mi fermerà neppure la morte dichiara l'ex dirigente della CONCACAF la confederazione del centro Nord America e dei Caraibi che negli ultimi 25 anni è stata l'epicentro della corruzione del calcio mondiale ci fermiamo per qualche minuto tra poco eccoci qui non ci sono altre notizie di rilievo dell'ultima ora tutti gli aggiornamenti nel nostro sito tgla7.it Tg Crona che torna domani alle 14 insieme a Raffaella Di Rosa grazie per essere stati con noi e un buon fine settimana a tutti voi grazie